108 posti auto per far rinascere Piazza Icco. Questa mattina si svolta l'inaugurazione dell'area parcheggio, presenti al taglio del nastro le istituzioni tarantina. Riqualificare completamente questa zona, perché non abbiamo soltanto riqualificato questa piazza trasformata in parcheggio, ma è stato fatto quasi un chilometro di marciapiede tutto intorno. Quindi veramente è completamente cambiata questa zona e questi posti auto si aggiungono a quelli che abbiamo già realizzato nella nostra città. C'è un programma per migliorare la qualità della vita, perché cercare un parcheggio per ore è una cosa che porta alla disperazione. O una persona per esempio che ha lavorato e deve tornare a casa anche molte volte che non sta bene e deve girare per cercare il posto di lavoro. Invece in questa maniera questo è il quinto ormai posto, punto di parcheggio. Il presidente dell'AMAT, Walter Poggi, pensa per il futuro a un'automatizzazione dell'ingresso. Per il momento comunque si procederà con il parchimetro. La crescita rispetto al passato è di circa una trentina di unità, per cui qua c'era già un parcheggio. L'obiettivo non è stato quello di avere più parcheggi, più posti auto, che è comunque una cosa buona. L'obiettivo è stato riqualificare l'ambiente, riqualificare il quartiere togliendo quelle vecchie costruzioni che stavano qui sulla destra e cercare di dare spazio e luce a tutta la zona qui, che è una zona chiusa urbanisticamente. L'obiettivo era un piano di risanamento con rilancio, che fosse da base al rilancio dell'area stessa. L'iniziativa è stata organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'ufficio scolastico territoriale di Taranto. I bambini delle quarte e quinte elementari dell'istituto comprensivo San Giovanni di Bosco hanno partecipato all'evento. La scuola ormai partecipa attivamente anche alle attività del territorio. La scuola non è più una scuola teoretica. La scuola ha una sinergia fondamentale ormai con le attività svolte sul territorio. Oggi si inaugura una piazza, un parcheggio meglio, intitolato Adicco. Bene, i bambini hanno già svolto un lavoro preparatorio. Innanzitutto hanno realizzato chi era Icco, quindi questo famoso atleta greco nato a Taranto nel V secolo a.C. Quindi abbiamo la storia. Questi bambini suoneranno gli inni della Gioia e di Mameli per alietare questa cerimonia alla presenza del sindaco e delle altre autorità locali. Quindi abbiamo la materia, la musica e soprattutto questa integrazione, questa partecipazione al territorio e al loro quartiere. Si dichiarano soddisfatti i rappresentanti del mondo del commercio e della zona. Finalmente oggi con questa apertura di questo parcheggio riusciremo in qualche modo a dare un aiuto al settore del commercio di questa zona che ha grandi carenze di parcheggio. Andremo a riproporre una convenzione per quanto riguarda i commercianti, per gli impiegati, per i titolari delle attività commerciali e non solo, ma anche per i fruttori. E quindi con una campagna di sensibilizzazione già fatta in altri periodi, andremo a omaggiare noi l'ingresso al parcheggio per i nostri consumatori e quindi promuovolo in tutti i modi possibili.